Benvenuti o bentornati, noi siamo i Mages of Lotus e in questo video della rubrica Buy or Not andremo a vedere se determinate carte richieste da voi sono da comprare o se meglio lasciarle lì. Prima di cominciare vi invito come sempre a lasciare un like, attivare la campanella e ad abbonarvi per darti un supporto sempre maggiore. Date anche un'occhiata al nostro sponsor in basso a destra, fantasiastore.it, nel loro sito troverete tantissimi prodotti e avrete uno sconto del 5% tramite il nostro codice su tutto ciò che non è già scontato. Allora andiamo a vedere le carte che ci avete richiesto. Allora, le prime due ce le ha richieste Filippo e sono Sacred Foundry e Inspiring Vantage. Allora, partiamo dalla Sacred Foundry. Carta giocatissima in Pioneer, ecco qua, e oddio, cioè giocatissima. Allora, si gioca fondamentalmente in tre mazzi, però si gioca in tutti questi mazzi in 4x, forse in Invention, forse si gioca in 3x. E poi, al di fuori del Pioneer, si gioca ovviamente in Commander e in Modern si gioca in Barn, anche in altri deck. Negli altri deck, però, così come in Barn, in realtà, non si gioca in 4x come in Pioneer, perché? Perché in Modern ci sono le Fets, quindi ci basterà giocare una o due di queste e poi Fets che prendono montagne o pianure e, se vogliamo, ci prenderemo questa terra qua. Allora, ha ricevuto già un bel po' di ristampe e all'ultima, diciamo, uscita in un set, come dire, normale è stata nel 2018 in Gilda di Ravnica. Se non sbaglio, si è nel 2018. Poi, appunto, ha ricevuto altre ristampe, è uscita addirittura in un Secret Lair e poi c'è stato Ananfinity, Anfinity, scusate, e in cui c'è anche la versione Extras. Allora, tu non mi hai chiesto una versione specifica, quindi io ti parlerò di questa qua, cioè dell'ultima uscita di Gilda di Ravnica. Allora, il prezzo è sui 15€, l'ho filtrata con lingua inglese e ci sono circa 500 copie disponibili e anche nelle altre versioni, mi pare che, ovviamente, tranne quello un po' più premium, il numero di copie sia simile, cioè in Gatecrash e in Città delle Gilda, vediamo, ci sono sempre circa 500 copie. Allora, veniamo alla questione, buy or not? Non è facile perché, allora, si gioca in pochi archetipi, parlando di Pioneer e di Modern, però è anche vero che possono sempre nascere altri archetipi, col bianco e col rosso. 15€, sinceramente, non mi sembra un prezzo così alto per una carta del genere, anche perché non ci sono tutte queste copie disponibili. Quindi, ristampe a breve, io sinceramente non me le vedo perché, allora, è vero che manca la versione Old Layout delle Shockland e potrebbero farla in futuro, però, cioè, questa è stata ristampata in un secret layer. L'hanno ristampata in Infinity, e Infinity è uscito un anno e mezzo fa, due anni fa. Sinceramente non mi aspetto una ristampa a breve per questa carta qui, e mentre potrebbero esserci delle speculazioni a breve per questa terra qua, anche perché si gioca in un deck nuovo, che adesso va tanto in Pioneer, che è questo qua, Boros Convoke. Allora, io qua ti direi... Allora, io non ci, diciamo, non comprerei tonnellate di questa carta, però, se ti manca il 4x, secondo me, a 60€, prendilo. Cioè, tanto, allora, a meno di 12€ CAD, sinceramente non ce la vedo, questa Shockland, quindi secondo me ci può stare il buy, se ti serve per giocare, o comunque se vuoi avere il settino. Per comprare all'ingrosso, non lo so, 15€ sono comunque tanti. La ristampa Old Layout la faranno, non nel breve termine, ma credo che la faranno. Quindi potrebbe essere un po' rischioso tenere le ferme lì. Poi, la seconda carta che ci hai chiesto, appunto, è Inspiring Vantage. Allora, questa si gioca sempre in Modern, in Barn, e qua si gioca in 2-3x, se non erro. E poi si gioca in Pioneer, più o meno nelle stesse deck della... in meno deck, in realtà, rispetto alla Shockland. Allora, questa però, a differenza della Shockland, non ha mai ricevuto una ristampa. Quindi possiamo vedere come c'è solo in Kaladesh. E... E qua, ovviamente, una ristampa per queste lande qua. Prima o poi ci sarà. Pioneer Masters, Pioneer Horizon, la faranno, lo faranno, credo, entro un anno. E quindi queste... le fastland, diciamo, hanno buone probabilità di finirla dentro. Secondo me hanno maggiori probabilità rispetto alle Shockland, per il semplice motivo che non hanno ricevuto altre ristampe. Quindi... Sì, no, alcune fastland hanno ricevuto ristampe. Ma, per esempio, questa no. Quindi, secondo me, qua, diciamo, ancora meno not buy. Anzi, quella di prima era buy. Questo è un not buy. E... Anche se, devo dire la verità, che in realtà il prezzo è veramente basso. Quindi anche qui... Cioè, allora, a meno di 6 euro, 5 euro CAD, sinceramente, non ce la vedo. Cioè, a meno di 20 euro un set per queste terre qui, è veramente difficile. A meno che non le mettano in dei Challenger Decks, in 4x, che tra l'altro forse non li faranno neanche più, questo tipo di prodotto qua. Comunque, anche qui, se vuoi il 4x, prendilo. Cioè, a questa offerta qua, 6 euro, che ottima, dall'Inghilterra, vabbè. Però, anche qui, non comprerai tante copie, perché la ristampa qui è molto, molto probabile. Poi, passiamo a Magico, che ci chiedi due carte di Love of the Rings. Allora, nello specifico, The Lighted Halfling e Orcish Baumasters. Allora, la risposta qui è analoga. Cioè, per entrambe le carte, la penso così. Allora, sono carte molto forti, che sono già entrate in tutti i formati. in cui si possono giocare. Qua dice Modern Commander, ma vi assicuro, ho guardato stamattina, che questa è entrata anche in Legacy. E se non erro, anche in Vintage. Baumasters, uguale. È entrato in tutti i formati. Tutti i formati. Quindi si giocano in tutti i formati e in 4x. Quindi, diciamo, sono di buoni presupposti per comprare una carta. Qual è il problema? Allora, intanto è che hanno un prezzo gialtino. Cioè, questo parte da... Il Baumasters parte da 30€, mentre l'Hobbit, che in realtà non è un Hobbit, parte dai... Diamo un'occhiata... Dai 18-20€. Poi, quindi, prezzo di partenza alto. Versioni per l'Halfling ce ne sono tantissime. Per il Baumasters un po' di meno. Ma qual è in realtà il vero problema? La tiratura. Cioè, questo prodotto, il prodotto di Lord of the Rings, sarà venduto tantissimo. E le copie che io vedo dei vari prodotti di Lord of the Rings qua su MKM, cioè la disponibilità, secondo me, è fittizia. Cioè, non ci sono così pochi box disponibili. È impossibile. C'è molto, ma molto più prodotto sigillato. Semplicemente, in maniera ovviamente giusta, i venditori devono far percepire un minimo di scarsità del prodotto. Altrimenti, non si venderebbero a certi prezzi. Bisogna cavalcare l'hype per riuscire a vendere, no? Quindi adesso, cioè, ci sta... Nel senso, voi, se volete comprarle perché vi servono per giocare, fate benissimo, perché sono forti queste due carte. Però non state ad investirci. Cioè, è ovvio che nel lungo periodo queste scenderanno di prezzo perché sarà sbustato tantissimo questa espansione. Tra l'altro uscirà, ve l'ha detto Mark in un video tempo fa, un altro prodotto di Lord of the Rings con altri collector, con un layout probabilmente per alcuni un po' più accattivante e soggettivo, chiaramente. Ma io credo che questo prodotto qua, del Signore dei Anelli, è un prodotto che andrà avanti per tanto tanto tempo e credo che l'hype veramente non scenderà presto. E nei negozi penso che si giocherà tanto Limited, quindi si sbusterà tantissimo. Quindi, a mio avviso, questo è un po' in generale, per tutte le rare del set, eviterei di comprarle adesso. Hanno tutte un prezzo molto alto, molto ma molto alto, e quindi assolutamente not buy se è per investirci. Se vi servono per giocare, ragazzi, sono carte forti. Se le volete subito, se vi servono subito, pagate quel che costano. Bene, spero di non avervi annoiato e di, diciamo, aver risposto alle vostre domande. E niente, continuate con le vostre richieste che noi siamo qui per voi. A presto, ciao ragazzi.